La partita contro Formigoni è aperta, noi giocheremo d'attacco. La squadra bergamasca del Partito Democratico si presenta, sette candidati, espressione di vari mondi professionali e di tutte le zone della provincia. Maurizio Martina, Regina Barbò, Mario Barboni, Virna Facheris, Kidane Agos, Mirosa Servidati, Marcello Saponaro. Sono convinto che la segreteria ha svolto un ottimo lavoro nella composizione di questa squadra, ha spiegato il segretario regionale Maurizio Martina. La battaglia contro il centrodestra sarà ardua. La nostra intenzione non è solo mettere in evidenza la criticità del lungo governo uscente, ma proporre una reale alternativa. Possiamo dimostrare di poter ragionare su tutto, dobbiamo svelare il trucco di una forza politica che a chiacchere dice di essere vicina al territorio. Nei fatti invece è molto diverso, ha concluso Martina. Basta guardare la recente polemica sui tagli al sociale. Per quanto riguarda il programma, ecco alcuni punti cardine del centro-sinistra. Ridurre dello 0,5% l'addizionale IRPEF regionale, chiedere al governo di rivedere il patto di stabilità, pronunciare un no secco alle centrali nucleari in Lombardia e porre al centro la situazione dei trasporti e della mobilità su ferro in particolare.